Esausti di quanto sono costretti a vivere ogni giorno per le condizioni della strada che porta alle proprie abitazioni, i residenti di Colle di Giorgio, frazione di Castellalto nel Terramano, hanno deciso di rivolgersi ai media, dopo le tante praticamente inascoltate, segnalazioni e denunce all'amministrazione comunale. La situazione qui alla strada Colle di Giorgio è stata sempre un po' devastante, quindi di conseguenza noi ci siamo rivolti molto spesso all'amministrazione comunale di Castellalto per opere strutturali. Loro ci hanno risposto con opere che sono state provvisorie e quindi questo non ha potuto aiutarci per il nostro problema. I problemi di questa strada sono molteplici, quindi si parla di pioggia che comunque viene tutto giù, come appunto è venuto poco d'anzi il loro lavoro che hanno fatto e soprattutto ci mettono un cartello di divieto quando ci sono queste frane, non solo quando fa la neve, ci sono anche vari tipi di incidenti, quindi rimaniamo magari su una cavatella, magari la macchina si impantana. Il Comune ha fatto dei lavori che servivano per aggiustare la strada e i lavori che hanno fatto sono stati quelli di mettere la terra su terra. Noi pensavamo che questa volta il lavoro era definitivo perché comunque sia dietro c'era uno studio scientifico, quindi avevamo buon speranze ed eravamo ben felici che finalmente dopo tanti anni di sollicitazione il Comune ci dava una risposta positiva. Questo non è accaduto perché il lavoro è venuto giù subito, la prima pioggia, non parlo di queste, di recendi, ma parlo appena subito i lavori quando sono finiti, quindi parlo di gennaio, i lavori non sono iniziati neanche quando il Sindaco ce l'ha promesso, perché il Sindaco aveva detto che il Comune abbastanziava questi soldi per settembre, però i lavori hanno iniziato in ritardo per questioni burocratiche. Tre, le famiglie che vivono nella zona che spesso, soprattutto con le piogge, rimangono isolate o non riescono a rientrare nelle proprie abitazioni. Io rifaccio un'altra volta l'appello all'amministrazione di Castellaldo chiedendo un lavoro definitivo. Il Comune ci ha ascoltato, ci ha dato appoggio alle nostre problematiche, però sono rimaste nelle quattro uomini del Comune insieme alle loro tante promesse, promesse e promesse. Noi siamo stufi, quindi a questo punto, magari non subito vediamo come si svolgerà la situazione, siamo costretti a rivolgerci a Sua Eccellenza il Prefetto e anche al Presidente della Regione Abruzzo.